Quattro giorni di grandi eventi, la diciannovesima rassegna dell'editoria abruzzese ospitata in un prestigioso edificio storico di Pescara, appunto il Circolo a Ternino in quattro giorni presenterà tantissimi autori, o meglio tantissimi autori presenteranno le loro opere abbiamo oltre 70 autori presenti in rassegna, quindi 16 all'incirca presentazioni letterarie pomeridiane dalle 16 alle 20 tutti i giorni, quindi dal 12 al 15 dicembre, la mattina invece l'evento è riservato alle scolaresche anche loro parteciperanno a questi incontri letterari e parteciperanno, effettueranno diversi laboratori laboratorio di scrittura creativa, laboratorio artistico, laboratorio introduttivo sul fumetto a conclusione di queste giornate, domenica 16 dicembre si terrà la sesta edizione del premio dell'editoria abruzzese dove verranno premiati autori abruzzesi e non e verranno conferiti quattro premi per la diffusione esattamente per la promozione e diffusione della cultura e dell'editoria abruzzese a tre colleghi giornalisti, Umberto Braccili, Paolo Mastri e Giustino Parisse e all'assessore alla cultura di Pescara Giovanni Di Iacovo